Buongiorno dallo studio di Cleo Feffinati. Oggi abbiamo una sorpresa e siamo qui con... Allora, siamo qui con Cristina Neuböck, del Hochzeitshaus Neuböck in Obdach. Io sono qui nel showroom in Udine di Cleo Feffinati. E abbiamo oggi il nostro corso per l'anno 2018. Abbiamo venuto oggi per l'anno di Udine, perché ci siamo molto felici, che la Praticamme 2018 con 100% qualità, come made in Italia, è in Italia. Nelche Kunde schätzeno, quando si un design, una qualità e una tolla un design di Cleo Feffinati e una tolla un consiglio di Cleo Feffinati attraverso. 2018 è un anno, un anno per tutti, che si decide con Cleo Feffinati e ci sono tutti, che ci sono in Obdach in questa Marce di creare. Grazie a tutti!